Siamo arrivati, è stato una figata, mi sono spazzato Mera e poi appena ho ricevuto la chiamata del mio produttore e marinavo, oh bellissimo, la faccia c'è il Nick Panda che vuole girare una cosa con tu e poi ho, madonna, anche perché io Nick Panda li ho sempre seguiti, sono fatti macchie lotte su voi, fanno rire, bellissimo. Il suo personaggio è stato complicato, però questo che ti puoi fare è che ci siamo inventati Mera bene. Ha di te oggi, non si intende riprosi uno che si ricomandava, è uno un leader, quando marinavo i suoi produttori, la pagina ti fai finta di scippare una persona, però se sanno della galera ti ha più fatto quello te, una borsetta da scipichare, questo non è stato un problema. Ci ha più posto una gira, una gira può entrare nel suo personaggio, non è stato facile, però se l'esperienza da Rengo è ci devo fare. Allora, pensando su, il suo produttore mio, marinavo, Cristian, in noi c'è di fare il suo sarto, quindi io ho superato un amico genio che fa il segretto della terra, fare il suo meccanico, quindi per sapere il posto di aici, e io ho superato la savina di no, va bene, donami 50 euro, ci devo sfatto, la seconda figura c'è questo. Non devo mai fare una cosa di aici, mai. Saluto di cuore di Nick Panda perché sono degli amici, ormai ho visto di Spinella già, non so, dei rotto, e poi pizza già, birra già, dei rotto, no, no, mi sono spazzato, anzi, devo andare, poi tengo questa 600 euro che dopo vanno di benzina, alla Kuwait, c'è lo sconto 1,49, fammi da andare, ringrazio dell'intervista, mi sono ragazza o merabeni e... S'abbistimento da puoi operare e da puoi riusciare. Ciao ragazzi, posso andare? Puoi andare. Grazie, ciao, ciao, ciao.